per quest'anno non cambiare stessa spiaggia stesso mare vacanze estive in sicilia scegli luglio e prenota subito la tua casa al mare al prezzo migliore goditi tanto mare sole relax tra i panorami più suggestivi e le spiagge più incantevoli della sicilia sud orientale vieni a visitare ispica mare con la sua lunga riviera sabbiosa e rocciosa immersa in una totale tranquillità da non perdere le spiagge di porto ulisse e punta cirica oppure pozzallo una meravigliosa cittadina sul mare che offre ai propri visitatori relax servizi e divertimento oppure scoglitti con le sue larghe spiagge sabbiose del mare limpido e cristallino o ancora marina di ragusa con le sue innumerevoli di incantevoli spiagge di sabbia dorata finissima tanto cara al commissario montalbano prenota subito il tuo soggiorno a luglio ti conviene e porta con te anche i tuoi amici e quattro zampe su mare col pattino vedremo gli ombrelloni lontano lontano nessuno ci vedrà vedrà grazie a tutti